Vogliono tutti. Il falegname attese un poco per darmi la risposta e rimase immobile a fumare in silenzio. Poi volse allo sguardo verso di me e disse, io l'ho detto ai miei figli, ma nessuno di loro vuole continuare il mio mestiere. E aggiunse gravemente, vogliono tutti fare gli impiegati fissando la soglia assolata del suo negozietto. Io mi sedetti rispettoso accanto a lui e dissi, forse la legge ha bisogno di far lavorare gli artigiani nelle fabbriche. Il costruttore solitario di bei tavoli e di sedie mi guardò senza capire.